Benvenuti a questa puntata dei dibattiti di economicrazia con Massimo Famularo, Managing Director di Distracted Technologies e blogger e, diciamo, conosciuto AIPU per le sue dissaltazioni sull'educazione finanziaria e sul mondo della finanza. Benvenuto, benvenuto. E di cosa parliamo con te oggi? Parliamo in buona sostanza di crisi MPL di intorni, cioè le tre questioni che andiamo a toccare nella nostra mezz'oretta, che ovviamente sarà un po' elastica come sempre, le tre questioni saranno il mercato degli MPL e la crisi incondente, quindi come potrebbe cambiare, e che cosa sono davvero, a chi possono interessare, poi per spostarci sul mondo banche e mondo crediti all'interno delle banche, e quindi che cosa potrà accadere e qualche ragionamento di sostenibilità, che ovviamente ci porta a parlare di modelli di business e quindi di banca del futuro e fintech. Questo è un po' il percorso che noi cerchiamo di costruire in maniera molto aperta e a dibattito. Ti lascio inquadrare intanto il mondo MPL e il mercato degli MPL. Assolutamente. Allora, grazie Francesco. In primo luogo, secondo me, una cosa che va detta e che è meno nota, è perché appunto parliamo di mercato MPL, nel senso che qualcosa che sfugge a tanti o che comunque è meno, talvolta, su cui si sofferma di meno, è che i crediti deteriorati sono, costituiscono anche una asset class di investimento, ok? E quindi quello che per un istituto di credito è essenzialmente un'attività non core, cioè un credito che è stato svalutato, per il quale sono già previsti abbondanti petite, per altri operatori, diciamo, che magari professionalmente sono in grado di valorizzare queste posizioni, fissioni interessanti, opportunità di investimento. E altra cosa che si dice poco, ma che è caratterizzante di questo mercato, è che sotto il profilo del rischio, questo tipo di asset class in realtà presentano dei vantaggi rispetto ad altri attivi, proprio per la loro natura di posizione in default. Un'azienda viva può morire, per cui io nel valvarne le obbligazioni o le azioni devo stimare la probabilità di default di questa azienda. Nel momento in cui vado ad acquistare e valutare un credito verso un'azienda che è defaultata, questo problema non ce l'ho, perché la probabilità di default è 1 e quindi essenzialmente dal profilo di rischio si tratta di un asset class che spesso e volentieri viene assimilata o comunque avvicinata al mondo dell'immobiliare, anche perché, e qui possiamo fare una velocissima distinzione tra crediti di tipo secured e unsecured, le due grandi categorie che caratterizzano questo mercato sono quelle dei crediti garantiti da beni immobili, e quindi possono essere un capanone immobiliare, un albergo, un centro commerciale, e dei crediti unsecured. I crediti unsecured sono crediti per i quali essenzialmente non esistono garanzie immobiliari, quindi non ci sono beni come collateral, ma per i quali, ad esempio, se si tratta di posizioni molto piccole e granulari, quali possono essere uno scoperto di conto corrente, una carta di credito, possono esserci delle garanzie personali, quindi il driver del recupero è legato al fatto che il debitore possa ritrovare lavoro, possa avere un lavoro, un reddito pignorabile, oppure possono essere grandi esposizioni corporate, per le quali essenzialmente si parla di crediti insinuati all'interno di passivi fallimentari, processi di ristrutturazione, insomma, tutto quello. Questo è, diciamo, un po' il mercato. Venendo ad oggi e al discorso un pochino più recente della crisi, questo mercato ha visto quattro anni di intensa attività, soprattutto dal 2015 e essenzialmente al 2019, dove vediamo che lo stock dei crediti deteriorati in bilancio e istituti con riferimento all'Italia raggiunge il suo picco all'incirca nel 2015, raggiungendo come valori lordi circa 200 miliardi per gli NPL di lordo. e 300 se si considerano anche i crediti a lightly to pay, che sono quelli meno deteriorati, per ridursi essenzialmente oggi a una metà per tutte e due le categorie, quindi siamo quasi all'intorno dei 100 alla fine del 2019. Dopo questa grossa discesa, operata grazie anche a qualche aiuto di Stato, come le GAX, le garanzie sui crediti attivi cartualizzati, e lo scenario cambia radicalmente, perché il 2019, che doveva essere l'anno un po' del consolidamento in cui si diceva che abbiamo sgonfiato i magazzini di non performing, mettiamo mano agli unlikely to pay, cambia radicalmente, cambia radicalmente perché il mondo è stato colpito da questo shock eccezionale, e dunque leggiamo tutti i giorni che le attese per i nuovi fallimenti, le nuove posizioni default si sono impegnate, sicuramente con un'economia italiana in attesa in calo nell'ordine del 10% nel solo 2019, interi compatti praticamente fermi come i trasporti, i aerei, verosimilmente diciamo quindi questo stock crescerà nell'anno, e se questo può offrire delle opportunità per gli investitori del mercato, perché ci saranno più cose da comprare, comporta anche delle criticità, perché chiaramente quando c'è un evento eccezionale, sicuramente in tribunali che già non erano velocissimi diventano più lenti, aumenta il premio a rischio per gli investitori all'interno del paese, quindi diciamo il prezzo di questi portafogli, il prezzo offerto per questi portafogli sostanzialmente cala, e quindi diciamo le prospettive del mercato diventano un attimo più grigie, in particolar modo, e qui faccio questa distinzione fra unlikely to pay e non performing, gli unlikely to pay, nelle classificazioni diciamo vecchie italiane, venivano chiamate incagli, laddove invece i non performing erano le sofferenze, e presentano quel problema che avevo indicato io al principio, nel senso che non hanno ancora diciamo il default uguale a uno, quindi essendo posizioni sostanzialmente sub-performing, che possono tornare in bonus o deteriorarsi, è facile immaginare che una cosa che l'anno scorso aveva qualche probabilità di tornare in bonus, quest'anno ha una probabilità molto diciamo molto diversa. In questo si innestano gli interventi straordinari fra aiuti di Stato, modifiche alla normativa europea per gli accantonamenti, insomma capite che il quadro è diciamo abbastanza critico. Ok, intanto grazie per questo primo inquadramento, io farò in questa nostra chiacchierata un po' l'avvocato del diavolo, cioè cercherò di farti delle domande, magari un po' retoriche, per portare chi ci ascolta a inquadrare bene il tema e poi magari ci confrontiamo su alcune visioni, poi insomma per ragioni professionali entrambi siamo all'interno di questo mondo, di questo mercato, in forme diverse, insomma diventa interessante confrontarsi. Allora io però vorrei fare delle piccole razionalizzazioni di quello che ci stiamo dicendo, partendo da questo primo concetto. Mi sembra di intuire che abbiamo queste grandi classificazioni che tu hai dato, quindi BTP, NPL, da un lato Secured, Secured, benissimo, aggiungo io, giusto per capire questo, c'è anche una distinzione tra debitore persona fisica e debitore impresa come concetto di questi portafogli. e mi sembra di intuire che a livello di mercato ci siano dei portafogli dedicati o se vuoi specializzati e quindi degli operatori che si specializzano più sull'ipotecario, più sul chirografario, più sulle persone fisiche, più sulle imprese e via dicendo. Questo come quadro generale. sempre se non comprendo male il discorso che tu hai fatto, il concetto in termini di guadagno è che siccome sono crediti, diciamo così, già svalutati, il tema dal punto di vista dell'investitore che compra è quello di comprare a un prezzo tendenzialmente basso, anche molto basso rispetto al nominale, e giocare all'ipotesi di recupero. E il clicco di recupero tocca la lavorazione che si deve fare di questi crediti, poi dopo ti lascio spiegare cosa si intende lavorazione, e i tempi, magari dei tribunali, di esecuzione, o i tempi di accordi che si fanno con i debitori. In tutto questo scenario gli attori, chi sono gli attori, dove si trovano i denari per fare questi fondi che investono, che differenza c'è tra i servicer che fanno la loro azione e i fondi che fanno la raccolta. Ecco, questa dinamica che forse è quella che sfugge in più quando si leggono e non addetti ai lavori magari sfugge, magari quando si legge su giornali che si parla di MPL, di investimento, di mercato, questa distinzione non c'è. E ovviamente è il preludio per poi andare a parlare del chi è poi l'investitore di questi fondi, ma lo lasciamo dopo. Questa scomposizione degli attori sul mercato, se ci dai una mano a comprenderla meglio. Assolutamente. Allora, parto da quella che è la distinzione di partenza che avevi individuato, che è quella diciamo tra persone fisiche e essenzialmente imprese e venendo anche a quel discorso che facevamo sul discorso sulla distinzione fra secured e unsecured. Spesso noi vediamo che si parla di mercato MPL come un oggetto indistinto, laddove, se possiamo fare un paragone anche per rendere la cosa più comprensibile, è come se stessimo dicendo di avere un portafoglio che contiene immobili, automobili e, che ne so, beni di consumo deperibili. Sappiamo tutti che ci sono cose assolutamente diverse e questo praticamente si riflette sulla lavorazione. Quindi, le due grandi famiglie se vogliamo, c'è per quanto riguarda principalmente le persone fisiche e i crediti unsecured, essenzialmente, diciamo, quindi il mondo più granulare, è un mondo in cui i portafogli vengono acquistati su base statistica, quindi io posso prendere 10.000 scoperti di conto corrente, 10.000 crediti, diciamo, carte di credito non pagate, di credito al consumo, piuttosto che utility, bollette, diciamo, questo mondo granulare che viene innanzitutto a delle lavorazioni, diciamo, proprie, per cui viene fatto essenzialmente con tre passaggi, diciamo, la phone collection, la home collection e legal. Quindi, essenzialmente, chi compra questi crediti fa un ragionamento statistico, prende 10.000 linee, le paga qualcosa che agli inizi, diciamo, si diceva il mondo del 2-3%, però, poi, perché a curiosità abbiamo assistito a momenti in cui questi portafogli giravano anche nell'ordine del 10-15%, quindi, diciamo, anche su questo ci sono specificità, eccetera, però, essenzialmente, discorso statistico, compro e, anche da un punto di vista dei recuperi, quello che avviene è che una grossa quantità di questi crediti, essenzialmente, porteranno un recupero zero, laddove, invece, una piccola quantità di queste posizioni avrà un recupero molto elevato perché, o, diciamo, si raggiungono delle transazioni stragiudiziali, oppure, laddove si trovano dei soggetti debitori che, nel frattempo, hanno acquisito dei redditi, si può avviare delle forme di pignoramento presso terzi, diciamo, dello stipendio o della pensione, se si tratta di pensionati, e quindi, essenzialmente, in realtà, sta per quelle piccole posizioni il recupero integrale. E quindi, questa logica di vuoto per pieno, abbiamo una, questo è anche, se vogliamo, il punto di partenza di questo mercato perché è quello dove si entra più facilmente, nel senso che, chiaramente, per la lavorazione telefonica o esattoriale, non c'è bisogno di conoscere, come posso dire, anche il sistema giuridico del paese, no? E quindi, osserviamo che, con riferimento all'Italia, abbiamo degli operatori tra i quali, ad esempio, Banca IFIS che è una società quotata ed è uno dei primi operatori di grosso livello che quindi ha avviato questa attività di acquistare i crediti e quindi metterli in lavorazione, in qualche caso, addirittura, anche di attivare delle forme di pagamento per cui, quindi, se si attiva il pignoramento presso terzi, noi vediamo questi crediti che erano, diciamo, essenzialmente recuperabili, per una certa parte diventano in qualche modo come un titolo pagante e in questo settore osserviamo anche l'ingresso di numerosi operatori europei, ad esempio, dalla Scandinavia, abbiamo anche società quotate come Hoist Finance piuttosto che Arrow Global dalla Polonia, Cruc e Seat. Quindi, quello che avviene tipicamente è che questa attività viene fatta da operatori italiani, quindi c'è operatori che hanno dei call center, delle resi esattoriali o degli studi legali, diciamo, strutturati per fare pignoramenti passivi. Però, in questa attività, sono intervenuti diversi operatori, come diciamo, stranieri, che in realtà hanno acquistato piattaforme italiane, c'è stata, tra l'altro, negli ultimi quattro anni una intensa attività di M&A e se vediamo in effetti il più grosso diciamo di questa operazione che ci apre la strada anche per il, per la seconda tipologia, quella verso le imprese e per gli immobili. Ad esempio, c'è questo operatore scandinavo che si chiama Intrum che ha realizzato un enorme joint venture con l'impesa San Paolo per, diciamo, il trasferimento di un portafoglio di circa 10 miliardi e il servizio di un'altra trentina di miliardi di intesa e Intrum, se vogliamo, è un po' l'esempio di quello che ci stiamo dicendo perché Intrum nasce quindi come operatore quindi scandinavia e poi su tutta l'Europa su questo segmento che è appunto quello dei crediti personali, dei crediti piccoli che si acquistano in maniera massiva. Ma quando sottoscrive la joint venture con l'impesa San Paolo entra in, diciamo, un mondo, una tipologia di lavorazione differente che è quella dove ci sono altri operatori tra cui diciamo il più grosso in Italia si chiama oggi DuValue che è una società quotata e diciamo ha trasformato il suo nome da DuBank che era essenzialmente chiaramente la divisione di recupero crediti di Unicredit che è stata ceduta insieme a un portafoglio col progetto Fino a un fondo che si chiama Fortress e quindi essenzialmente questo secondo mondo quello che non è fatto di recuperatori al telefono è fatto di avvocati e di gestori immobiliari perché quando il credito non è una piccola carta di credito ma è un grosso fallimento piuttosto che un complesso immobiliare c'è una gestione totalmente diversa una gestione che non è statistica e massiva ma una gestione per le singole posizioni che necessita della valutazione degli immobili necessita della valorizzazione degli immobili perché alle volte abbiamo strutture che non sono finite complessi immobiliari e quindi essenzialmente per rendere queste diciamo garanzie liquidabili bisogna terminare questi complessi quindi diciamo venendo alle tipologie di lavorazione e gli attori in campo abbiamo due macro categorie che è quella diciamo del mondo dei small unsecured o comunque dei credit che si recuperano essenzialmente con il call center oppure con l'esattore che fa la visita e abbiamo invece un mondo quello più tipicamente degli special services che adesso in Italia vede diversi attori tra i quali oltre a due value diciamo c'è CERVED credit management che è la divisione del gruppo CERVED che fa diciamo in realtà informazioni commerciali ma ha una grossa divisione nel recupero crediti di recente entrata relativamente recente nel gioco anche un'entità controllata dal ministero del tesoro che era la vecchia SGA società gestione attiva oggi diventata AMCO che praticamente ormai gestisce diverse decine di miliardi derivanti insomma dei popolari popolari venete ha preso già un pezzo anche del monte dei paschi ed era in trattativa con un altro pezzo e quindi per venire e chiudere diciamo su questo pezzo le due lavorazioni principali sono quella personale fatta al telefono e di persona quella legale riguardante gli immobili e per non farci mancare niente e complicare la vita vediamo che in questo mondo c'è avviene spesso una commissione tra gestore e proprietario dei crediti nel senso che tradizionalmente noi abbiamo una divisione cioè c'è la società di recupero crediti che essenzialmente viene pagata su quanto in cassa e c'è un signore che è il titolare dei crediti che può essere la banca che li ha erogati che affida il mandato di recupero piuttosto un fondo che li ha comprati un veicolo di cartolizzazione comunque c'è tradizionalmente questa distinzione tra le società che fanno il recupero e i titolari del credito e questa cosa diciamo è piuttosto importante perché diciamo essenzialmente sono ovviamente due modelli di business sostanzialmente diversi perché il servicer vive di commissioni variabili quindi ha diciamo una struttura che presenta chiaramente importanti attività di leva operativa per cui diciamo comunque una serie di costi fissi maggiore a delle masse insomma a migliorare cose per complicarci la vita assistiamo al fatto che in realtà chi fa il recupero spesso e volentieri nel passato ha iniziato ad acquistare col proprio bilancio i crediti e quindi nel mondo di oggi abbiamo anche degli operatori che sono in qualche modo misti nel senso che oltre a fare il recupero per conto terzi o per conto magari di un'entità del proprio gruppo sono anche acquirenti e questa cosa qui complica piuttosto le valutazioni diciamo di questo tipo di attività e quindi in realtà spesso e volentieri da dietro c'è stata una anche credo un'indagine della Banca Centrale Europea sull'operazione Omicredit perché siccome è stata venduta la piattaforma e i crediti avevano sollevato dei dubbi che poi insomma non hanno avuto un seguito sul fatto che si fosse valutato un po' il portafoglio diciamo ci fosse stato un trasferimento di prezzo tra portafoglio e piattaforma per non farla troppo complicata il concetto è che oggi esistono delle commissioni cioè ci sono degli operatori che oltre a recuperare i crediti diciamo sono anche titolari o alle volte abbiamo anche che è la cosa diciamo più fisiologica e naturale una sorta di catena di comando per cui il titolare dei crediti il fondo che investe piuttosto che la banca è anche proprietario del servicer diciamo la relazione più naturale è quella appunto di avere essenzialmente diciamo una forma di controllo tra il principale titolare dei crediti e la piattaforma di recupero questo però diciamo chiaramente non avviene sempre e ci sono ad esempio dei gasti uno dei più grossi è CERBED credit management che di fatto ma anche a questo proposito anche prelios essenzialmente abbiamo degli operatori che in realtà lavorano per investitori istituzionali ma non acquistano crediti o proprio bilancio questa è un po' la divisione su chi fa che cosa proseguendo proseguendo su questo su questo ragionamento che stiamo facendo due questioni una che si scompone in tre sotto questioni è il problema che adesso ti metto davanti e ovviamente è preludio dire chi è l'investitore cioè l'investitore finale la raccolta quindi faccio un unico ragionamento per toccare tutti questi due filoni che sono quattro cose in tutto ma sono due filoni allora il primo punto di partenza è intanto abbiamo detto per la parte sicura dei crediti small la parte micro delle carte di credito dei debitori privati e via dicendo che ci si basa su valutazioni statistiche le quali valutazioni statistiche però hanno un senso logico cioè hanno un indice di affidabilità e quindi i prezzi sono sia poi i prezzi di acquisto e le l'IR cioè le aspettative di guadagno del fondo si basano su queste analisi statistiche che in un momento di discontinuità come questo diciamo così lasciano un po' vuole dire lasciano il tempo che trovano ma insomma rischiano di essere alterate in termini di validità almeno nella primissima fase post shock pandemia e questo aumenta una valutazione di rischiosità dell'effettivo ritorno dell'investimento primo pezzettino del tema del problema il secondo è che tipicamente questo tipo di investimenti sono investimenti con clausole di lock up cioè tendenzialmente sono strumenti liquidi per il sottoscrittore finale per una durata di tempo che è la durata della lavorazione e spesso verso la fine della lavorazione correggimi se non mi fanno retorica ma sempre per spiegare meglio le cose a chi ci ascolta spesso magari nella vita non è solo la lavorazione del credito ma si dà luogo a una sorta di mercato secondario cioè dei pacchetti lavorati che vengono rimessi sul mercato ma anche questo tipo di diciamo così way out per il fondo che fa il primo acquisto è condizionato dalla valutazione delle serie storiche e l'illiquidità delle serie storiche in momenti come questo discutibili alzano una valutazione potenziale di rischio il che mi porta a ragionare seguendo su questo profilo il fatto che il chi cioè entriamo nel mondo del chi è l'effettivo sottoscrittore il chi è o un istituzionale che ragiona in maniera non emotiva di lungo periodo casse pensioni piuttosto che banche di investimento o fondi autonomamente in questo senso o i sottoscrittori privati che però devono avere un come posso dire delle caratteristiche di profilazione tra virgolette molto attente non tanto al potenziale grande guadagno che c'è perché compro a poco e posso portarmi a casa un rendimento anche elevato però devo tenere conto dell'impatto di liquidità e di questa volatilità maggiore in questo momento e questo ragionamento però per completare il problema che ti volevo porre è che nelle valutazioni del NAV perché poi questi fondi in finanza si ragiona sempre su questi NAV complessivi che periodici trimestrali semestrali annuali a seconda della dimensione del fondo e via dicendo si basano sull'attualizzazione dei flussi di cassa futuri perché ovviamente cerchi di anticipare questa cosa ma l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri che tende a tenere alto il valore del fondo e quindi genera questo guadagno nella fase di lock up quindi di liquidità genera un guadagno teorico in corso nei momenti di shock come questi tende a ridursi che non è una perdita reale ma perché non era un guadagno reale già maturato prima ecco come riusciamo a combinare questi elementi critici con il profilo del sottoscrittore finale sì allora innanzitutto venendo al punto di partenza abbiamo detto diciamo delle valutazioni statistiche i modelli statistici erano molto semplici cioè se c'era il fondo americano che comprava i MPL in Italia essenzialmente si diceva no allora io stimo che in Italia in media ci vogliono due aste deserte che è un'esecuzione dura in media boh sette anni otto quattro a seconda dei tribunali e c'è un discorso in realtà l'idea di guardare al passato è un'idea abbastanza diciamo poco performante perché in realtà ci sono numero adesso c'è un enorme elemento di discontinuità però faccio presente che una grande differenza fra queste attività la fa anche la qualità e l'intensità della gestione se io acquisto un credito immaginando che un bene che non ha mercato si venda da solo devo dire andrà a valori di fra dieci anni in asta in esecuzione se io dispongo di strumenti proattivi quali le cosiddette società Rioco o quindi dei veicoli immobiliari che alla prima asta vanno ad acquistare l'immobile eventualmente compensando con il credito secondo le tipologie e poi lo vendono a batto i tempi quindi in realtà una prima leva importante che viene spesso sottovalutata è la capacità di essenzialmente di gestione proattiva e questo in realtà può un po' essere una forma di essenzialmente di come dire edge o di comunque driver contrario rispetto a quelli gli shock dell'aumento del carico di lavoro oppure quello del copio da un punto di vista degli investitori come giustamente evidenziavi tu il tema è essenzialmente che il carattere di questa diciamo questa attività è estremamente illiquido e quindi in realtà dovrebbe essere assimilabile se vogliamo anche per quelli che sono i diciamo anche là dove non ci sono come dire immobili sottostanti però come asset class di investimento la cosa più simile da guardare è quella dei fondi immobiliari ossia di queste grandi diciamo categorie per i quali essenzialmente che cosa si racconta poi dobbiamo capire se è vero o meno ma si racconta che nei periodi di difficoltà i flussi di cassa vengono in realtà rinviati ma non abbattuti questo ovviamente come dicevamo ha un effetto diciamo deprimente nei confronti del diciamo valore attuale della quota dell'investimento perché ci vuole esatto ci vuole più tempo e dall'altro lato però bisogna anche dire che come dire questa attività dipende molto dalle capacità di gestione quindi dalla cooperativa venendo al discorso degli investitori prima abbiamo menzionato Banca Isis quelli che abbiamo sono o da un lato soggetti che praticamente sono come dire o istituti di credito di recente c'è stata l'iniziativa di Corrado Pazzera con la Spax che adesso è diventata Illimiti e che quindi si è fusa con una banca e adesso essenzialmente è un istituto di credito ma quello che assistiamo è che tipicamente la raccolta di questi diciamo di questi fondi che vengono impiegati in questa attività andiene attraverso o dei cosiddetti fondi chiusi dei fondi edge comunque delle strutture che essenzialmente hanno un periodo di raccolta che diciamo dura non so magari un anno un anno e mezzo un periodo di investimento che dura ne so tra due e tre anni quindi e poi uno di uscita di un altro paio d'anni quindi essenzialmente un mondo fatto di una durata complessiva magari di un sette anni e un mondo nel quale a differenza diciamo dei fondi liquidi per i quali c'è non so il calcolo giornaliero comunque un aggiornamento delle quote per questa tipologia di investimenti essenzialmente non c'è una possibilità di uscita anticipata se non quella di rivendere come dicevi tu sul mercato secondario le proprie quote che è qualche cosa che pure succede ma che è soggetta a una valutazione indipendente delle quote nel senso che noi vediamo che tipicamente dentro questi fondi noi troviamo a volte istituti di assicurazione piuttosto che fondi pensione comunque investitori che hanno un orizzonte di lungo periodo e che non hanno la necessità di fare gli istituzionali sono tipicamente soggetti di questo tipo e però alle volte quello che succede è che un'altra caratteristica importante di questa tipologia di asset class è che ha una estrema variabilità nelle tempistiche di recupero nel senso che se io il mio business plan lo posiziono non so di qui a tre anni dicendo che lì ci sarà il fulcro dei miei recuperi quello che si osserva nella realtà è che in realtà i recuperi si distribuiranno come se fosse una curva normale un po' prima e un po' dopo nel senso che ci sono dei casi in cui si recupera anticipatamente perché ad esempio magari una definizione che si era immaginata giudiziale con una giudicazione in asta viene risolta per altri versi in sede stragiudiziale quindi i soldi magari arrivano prima altri casi in cui in realtà si era previsto un piano di rientro con un debitore che doveva vendere gli immobili questo debitore poi fallisce o comunque non vende gli immobili e quindi il periodo si allotta quindi essenzialmente è un oggetto che innanzitutto dovrebbe in qualche modo essere venduto e qualificato come estremamente illiquido per cui anche nel mercato secondario ci sono chiaramente degli operatori che entrano ma sono degli operatori che essenzialmente sono opportunistici quindi in questo momento se qualcuno va a riprendere ad esempio i titoli delle GAX piuttosto che sul mercato dei crediti troviamo dei soggetti che chiaramente vogliono fare dei rendimenti importanti e che tipicamente la liquidazione anticipata di queste diciamo di queste quote di questi attivi presenta degli sconti importanti quindi da un punto di vista dell'approccio di investimento l'idea è questo tipo di asset class dovrebbe essere come posso dire attenzionato o comunque il core business di investitori con una logica di lungo termine e con un approccio tipico dei fondi chiusi quindi con l'idea che non è possibile diciamo in qualche modo avere di default una liquidazione anticipata se non per l'appunto rivendendo le proprie quote sul mercato secondario il che implica trovare una controparte che le vuole vendere e mettersi d'accordo sul prezzo ultima nota su cui diciamo questo tipo di operazioni vediamo che spesso e volentieri queste sono strutturate come operazioni di cartolarizzazione quindi in realtà anche quando ci sono dei fondi all'interno di questa tipologia di investimenti quello che vediamo è che il soggetto che compra i crediti dalle banche sul mercato soluzionario è una società al veicolo è tipicamente una società in Italia una società al veicolo ex legge 99-130 e quindi una tipologia di scatola per comprare i crediti fatta apposta con una serie di agevolazioni e questa questo veicolo tipicamente per finanziarsi emette delle note note che possono essere un tranching senior mezzanino e junior e tipicamente queste note per la parte diciamo più rischiosa che non è quella magari della leva prevede tipicamente un rimborso e dei rendimenti assolutamente variabili quindi in realtà diciamo l'illiquidità di questo tipo di attivo e l'aleatorietà dei recuperi viene in qualche modo come posso dire gestita col fatto che essenzialmente agli investitori è dato un orizzonte complessivo per dire entro quella data verrà rimborsato i crediti verranno recuperati e purtroppo talvolta la data prevista è sottostimata nel tempo perché quello che succede molto spesso con questo tipo di attività è che si arriva alla fine e i crediti non sono stati ancora diciamo recuperati per cui bisogna o prolungare la durata delle strutture o sostanzialmente riscato l'altra in altre diciamo di attività di attività questo mondo visto dal lato del primo soggetto che ha erogato i crediti quindi dal lato banche e visto dal lato del prenditore del debito quindi i due soggetti che hanno fatto partire il rapporto di credito debito per le banche questo impatta apparentemente uno dice perché devo vendere al 2-3% al 6 al 10 a seconda delle situazioni un credito nominale 100 in realtà spesso si si dimentica che questi pacchetti di credito sono pacchetti che nei bilanci delle banche sono già stati svalutati per gli obblighi di vigilanza bancaria delle regole bancarie di vigilanza che obbligano degli accantonamenti di salutazione per cui da questo punto di vista il costo in bilancio della banca era precedente e quindi il prezzo va raffrontato al valore netto in bilancio però il tema diventa la prevista esplosione di ulteriori NPL cioè di ulteriori sofferenze che ci saranno per effetto di questa pandemia altera un po' i giochi cioè come ne verrà fuori il bilancio medio delle banche ovviamente da un lato l'altro pezzo di domanda è il prenditore del debito il debitore il debitore che un domani vuole fare una transazione in bonus o col tribunale se è un'impresa e via dicendo che cosa gli cambia davvero a dialogare con la banca che gli ha concesso il fido o dialogare nella ristrutturazione con un fondo che è intervenuto quale delle due situazioni è meglio per il debitore nella tua esperienza assolutamente sì io diciamo dichiaro un po' un iniziale conflitto di interessi diciamo non immediato ma avendo per una ventina d'anni lavorato per i compratori del credito allora innanzitutto un'osservazione partiamo abbiamo detto dai bilanci degli istituti di credito e facciamo un minimo di storia anche sotto il profilo regolamentare nel senso che quando questi crediti rimanevano sul biancio delle banche e specie per l'Italia esisteva sostanzialmente una forma anche di discrezionalità nel trattamento di queste esposizioni faccio un esempio molto semplice supponiamo che io ho diciamo esecuzione immobiliare verso un immobile a Milano e la valutazione questo specie diciamo prima del 2015 del 2010 se la valutazione che dà il tribunale è irrealistica e quindi ci vorranno 4 aste ora a Milano non ci vogliono 4 aste però in altre parti d'Italia si arrivano anche a 8-9 aste facilmente se la valutazione del tribunale è irrealistica e ci vuole un lungo tempo per realizzare il valore reale che in realtà è immediatamente conoscibile perché se io so che diciamo ormai gli appartamenti che n anni fa si vendevano a 200.000 oggi vanno a 80 la realtà è che se il debitore non ha altro e ha solamente la garanzia quell'appartamento da lì più di 80 non si realizza ma anzi se è in asta se sul mercato libro si vende 80 in asta si venderà 50 però cosa succede? Succede che se il tecnico del tribunale valuta quell'immobile in prima perizia a 200 la banca ha questa comodità avallata da revisori da regolamentatori e quant'altro di poter dire se esiste un documento ufficiale che dice che quella garanzia vale 200 io il credito lo svaluterò quando ci saranno le aste di deserto questo comportava una forma di discrezionalità che è una delle cose che insomma ha pesato di più anche nel dissesto di alcuni grossi istituti di credito italiani e quindi l'idea è che quando questi crediti restano nel bianco delle banche e le banche hanno una discrezionalità perché ricordiamo che tradizionalmente la classificazione a sofferenza secondo le circolari applicative della banca d'italia tradizionalmente faceva riferimento alla condizione di insolvenza della controparte che come tu diciamo mi insegni è questione non banalissima da quantificare e che consente ampi margini di discrezionalità cioè gli istituti avevano buon gioco a pensare che dei debitori a chiamare i liquidi dei debitori che di fatto erano insolventi questa cosa ha generato dei problemi ti rompo un secondo per una precisazione al netto che abbiamo sforato anche con te la mezz'oretta ma insomma va bene uguale è importante però concludere questi ragionamenti che dal mio punto di vista sono molto interessanti diciamo che ha inciso quanto ha inciso è una parentesi tecnica quindi due battute quanto ha inciso le modifiche di BCE sull'on to value cioè sulle regole degli accantonamenti delle erogazioni massime degli accantonamenti sull'immobiliare o sul presto proprio su questo tema specifico che stavi dicendo moltissimo perché essenzialmente a un certo punto il regolatore centrale ha detto facciamo facciamola finita con questa discrezionalità e introduciamo un concetto che in inglese viene detto calendar provisioning ossia gli accantonamenti crescono in modo lineare nel tempo a prescindere quindi se anche il tribunale mi dice che quell'immobile vale 200 ma tu lo tieni classificato a diciamo deteriorato per 4 anni gli accantonamenti aumentano e questa cosa qui diciamo è un po' sparigliato c'è stato anche insomma un po' di dibattito perché la prima versione delle regole BCE prevedeva di portare gli accantonamenti al 100% del credito in 2 anni per i crediti unsecured e in 7 anni per i crediti unsecured c'è stata un po' di trattativa la modifica delle regole contabili e quant'altro che porta addirittura a 9 anni comunque in sintesi il messaggio è che oggi questa discrezionalità è stata eliminata ed esiste un orologio che parte dal momento in cui un credito viene classificato ha deteriorato ma prima della sofferenza infatti c'è un aggregato maggiore che si chiama non performing exposure che include pass due a likely to pay e non performing quindi il regolatore dice una cosa semplice gli accantonamenti nel momento in cui quella posizione non è più performing partono e a un certo punto arrivano al 100% quindi in realtà essendo obbligata a accantonare a un certo punto completamente quella posizione per l'istituto di credito si aprono tutta una serie di scenari innanzitutto è molto più costosto detenere in bilancio queste operazioni che non vendere esatto che non vendere agli operatori e l'altra questione attiene poi in realtà non facciamo digressione perché sennò dura di più per supportare le banche in questa transizione c'è stata una deroga agli aiuti di Stato con le garanzie statali le GAX cosiddette per cui diciamo che gli istituti di credito hanno avuto un po' una mano nella possibilità di fare delle operazioni di cartolarizzazione con le quali sostanzialmente ottengono gli stessi effetti di una vendita di questi crediti però anche se in realtà il grosso di questi crediti resta nel loro perimetro ma non lo facciamo troppo complicato quindi dicevamo dal punto di vista delle banche c'è essenzialmente questa convevienza nel momento in cui c'è l'obbligo di valutare a vendere c'è un tema che abbiamo già affrontato che riguarda la gestione professionale di questi crediti perché ricordiamo che il core business di una banca è erogare è misurare il rischio della controparte mentre invece talvolta per effettuare queste attività di recupero bisogna vendere immobili tant'è che addirittura i due grossi istituti di credito italiano in credito intesa si sono attrezzati trasformando alcune delle loro filiali in agenzie immobiliari per ricollocare gli immobili quindi essenzialmente il recupero è un mestiere diverso dall'erogazione del credito e quindi è anche corretto in una logica di business che attività non core non vengano gestite dalla banca ma vengano o cedute o in realtà affidate a qualcun altro però siccome ci sono delle commissioni da pagare quando si affidano a terzi ancora una volta diventa diciamo conveniente la cessione chiudo su un passaggio che è un po' poco intuitivo ma viene a quel discorso con il rapporto debitore io ho visto che nella mia esperienza personale ci sono una serie di vantaggi dal punto di vista del debitore nel trattare con un fondo un servicer un soggetto eccezionario che non con la banca banalmente esiste un tema di reputazione azzardo morale per cui quello a cui ho assistito io nella mia esperienza personale è che ad esempio un istituto di credito non può permettersi di accordare a un debitore uno sconto in una trattazione giudiziale perché lancerebbe un segnale agli altri debitori sulla sua pro debolezza e quindi è un segnale negativo quello che può fare la banca è però cedere a un terzo anche a valori molto più bassi di quelli ai quali si sarebbe verificata la transazione l'esposizione e a quel punto il terzo beneficia di questo scalino se vogliamo che ha comprato a un livello più basso di quello a cui il debitore avrebbe chiuso il giorno dopo si presenta al debitore e il debitore è a buon gioco a chiudere quindi una delle cose che succede quando si comprano i portafogli è che nel primo mese due mesi ci sono tutti quelli che aspettavano questa tipologia diciamo di operazioni che non chiudevano con la banca che vengono a chiudere quindi assolutamente da un punto di vista dell'efficienza del sistema è preferibile che sia un soggetto terzo anche per carattere proprio di diciamo teoria economica e quindi di reputazione e credibilità quindi la banca non può fare lo sconto e questo senza entrare in discorsi diciamo un pochino più ambientali per i quali banalmente diciamo che determinati istituti di credito quando hanno delle esposizioni in sofferenza non hanno la volontà perenne motivi diciamo per seguire il recupero quando vada un terzo invece calano le remore e peraltro va detto che il terzo che ha comprato un credito nominale 100 a valori molto bassi in partenza una transazione a una percentuale che apparentemente è modesta rispetto al nominale ma è maggiore del prezzo di acquisto rende più facile chiudere un deal transattivo ovviamente assolutamente c'è l'effetto tempo perché chiaramente se io ho comprato tutto il portafoglio con un business plan chiudere anche a un livello basso però chiudere immediatamente comporta un rendimento un IRR elevatissimo perché il rendimento si è fatto in tempo molto breve ecco questo ci sposta alla terza questione diciamo così che è quella dei modelli di business banche fintech ragionamento di fintech dove ovviamente noi siamo andati lunghi e lo attocchiamo lo stesso e poi magari sarà la scusa per riprendere ripartendo proprio su fintech un secondo video se tu avrai piacere di farlo con me ma come tu vedi l'evoluzione del modello di business di una banca e consentimi anche tutti dicono che il fintech è la frontiera del futuro e via dicendo però ci sono tanti operatori che non stanno diciamo così non tutti se la stanno passando bene c'è una fase anche di concentrazione nel mondo fintech e di segmentazione di specializzazione quindi come lo vedi tu questo cambiamento così giusto per inquadrare un attimo il tema assolutamente sì allora giusto proprio per demistificare e dire proprio la cosa un po' da grillo parlante parlando delle cose fuori dalle mode e avendo cognizione di quello che si dice c'è tutta una moda che si dice sì il fintech l'informazione l'intelligenza artificiale ok ora nel momento in cui io ho a che fare con facebook con amazon con i soggetti che vendono beni materiali o soprattutto comunque con i soggetti che vendono dei beni quindi sul lato commerciale questa cosa sicuramente ha un senso perché io posso profilare le persone posso capire a chi vendere cosa posso capire a chi rendere in questo mondo in realtà la conoscenza è utile e importante ma in realtà ha una capacità molto minore di incidere sul business di recupero perché essenzialmente se il mio recupero dipende dal livello a cui un signore mi paga piuttosto che da quanto riesco a vendere un immobile non c'è intelligenza artificiale che tenga un modello di machine learning che consente di vendere una casa meglio piuttosto che di sostanzialmente pignorare un reddito che non c'è quindi definendo bene dove questi strumenti sono utili questi strumenti sono utili dove innanzitutto nel profilo conoscitivo siccome abbiamo detto che questi portafogli sono fatti di che ne so una minoranza di posizioni che recuperano e una maggioranza che non recuperano la gestione efficiente dei dati consente di individuare le persone che hanno una probabilità maggiore di pagare atteso che abbiamo dei modelli che siano forward looking cioè che fattorizzino anche dati macroeconomici e che non guardino al passato perché guardare al passato qui è molto inefficiente e quindi da un lato conoscitivo da un altro lato nella gestione dei processi è inutile dire se guardiamo non so banalmente in sede di antiriciclaggio no your customer o altri altri processi una qualunque fintech in 5 minuti col video riconoscimento una finale banalmente adesso ci sono derogati 25 euro e ci fermano le persone quindi la tecnologia digitale è estremamente utile è utile per gestire correttamente anche la documentazione se guardiamo un'altra cosa che chiunque fa in PL sa è che molti istituti di credito ma anche finanziarie se è stato educato 10 anni fa magari non hanno la documentazione completa mancano gli originali e ci sono problemi perché poi quando quelle cose bisogna farle valere in giudizio ci vuole il titolo originale quindi la tecnologia è sicuramente un fattore abilitante e un fattore importante va qualificata fuori dalle mode perché ripeto può aiutare a vendere meglio il prodotto di Amazon o Netflix non può far aumentare il recupero è diciamo un importante strumento conoscitivo che e qui faccio la chiusa un po' da basti al contrario addirittura se vogliamo può come dire rallentare le dinamiche del mercato quando si tratta di investire in asset liquidi perché se io sono più bravo degli altri a prevedere i recuperi futuri dei crediti grazie alla tecnologia significa che li prezzerò a un livello più basso e questo vuol dire che dal punto di vista commerciale è probabile che chi è meno capace si offra di più quindi sono un fondamentale strumento se vogliamo di risk management e di protezione perché consentono di non pagare troppo quello che vale di meno o di avere una corretta cognizione dei portafogli quindi l'ottica importante è sicuramente quella del risk management della corretta valorizzazione ma che questo poi possa cambiare radicalmente le dinamiche di mercato come ho detto in realtà no perché vince chi prezza peggio che poi farà delle perdite nelle gare per acquistare i crediti vince perché offre di più la strada è utilizzare la tecnologia nei processi per renderli più veloci e per gestire come dicevamo quella mole di lavoro che deriverà dall'aumento anche delle insolvenze e dei fallimenti perché ricordiamo quel discorso che abbiamo detto dell'imprenditore che fa la transazione col servicer è successo tipicamente succede e però si trova anche quel processo in difficoltà se il servicer ha più posizioni di quante ne possa gestire e ne gestisce in via tradizionale al telefono col foglio di carta e anche il debitore che vuole transare troverà la fila o avrà processi più lenti quindi in realtà la tecnologia è fondamentale per rendere i processi più veloci più rapidi e per comprendere meglio anche diciamo le misure di rischio e utilizzare correttamente l'informazione disponibile io devo ringraziarti per le tue risposte per le tue precisazioni precettarti per un secondo video nelle prossime settimane dove partiamo dal mondo finte che più in generale un'ultima battuta ma proprio in due parole che voglio chiederti e poi ci congediamo da chi ci sta ascoltando il sistema banca italiano da qui ai prossimi cinque anni come lo vedi? lo vedi secco sicuramente più concentrato meno operatori vedo ancora vivi quelli che sono i più grandi e i più noti oggi saranno ancora lì e saranno più forti vedo che soprattutto gli operatori più piccoli ce ne saranno molti di meno o per aggregazioni acquisizioni o perché qualcuno non ce l'avrà fatta e aggiungo io perché ci sono spinte di vigilanza per alzare i livelli dimensionali medi così ce la siamo detta tutta non solo in Italia a livello europeo insomma anche a Svizzero per esperienza diretta il peso complessivo della compliance e della vigilanza spinge a fenomeni aggregativi che da un punto di vista di opportunità del mercato se la struttura se la banca è solida e sana può cogliere per fare acquisizioni aggiungerei che ci dovremmo francamente auspicare una maggiore internazionalizzazione di tutti gli operatori quindi di avere operatori italiani che diventano europei e qualche operatore europeo più presente in Italia a mio avviso la strada è ridotto il numero non solo in Italia ma in Europa nel mondo e avere soprattutto operatori più globali perché questo fa gestire i rischi porta efficienza porta tecnologia e fa la differenza una volta si discuteva tanto per trasforare una volta si discuteva tanto di banca del territorio banca di territorio banca per il territorio direi che l'efficienza di un modello bancario fatto bene attento anche alle tecnologie possa dare come risposta a una banca per il territorio indipendentemente da dove sia radicato questa è un po' la chiosa che mi sento di fare io devo ringraziarti per questa chiacchierata devo ringraziare anche tutti quelli che ci hanno ascoltato fin qui e insomma spero che siamo riusciti a dare delle delle spiegazioni delle puntualizzazioni non solo a confondere troppo le idee perché ogni tanto soprattutto a me scappa magari anche questo grazie a tutti e grazie ancora a te Massimo alla prossima grazie a te buona giornata grazie 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 a tutti grazie a tutti